Grazie a tutti. In queste situazioni si usa presentarli comunque, quindi ruberò qualche minuto per le presentazioni. Cominciamo in rigoroso ordine alfabetico, così non faccio torto a nessuno, con Milena Gabanelli. Scusatemi, questa prima parte la leggo perché come al solito io poi rischio di dimenticarmi qualche pezzo importante. È una giornalista italiana, autrice e conduttrice televisiva. È stata inviata di guerra in Cambogia, Vietnam, Birmania, Sudafrica, Somalia, Cecenia ed ex Jugoslavia. Impossibile parlare di lei ovviamente senza citare Report, che è il programma televisivo in onda su Rai 3 che è stato pioniere e simbolo del giornalismo investigativo e di cui proprio lei è stata ideatrice nel 1997, se non sbaglio, oltre a essere stata per anni il volto. Attualmente collabora con il Corriere della Sera e con il Tg della Sette. Bene, poi Paolo Ruffini, Paolo Ruffini è anche il giornalista, ha lavorato per il mattino, per il messaggero, per i quali si è occupato di cronaca e di politica. Dal 1996 al 2002 è stato direttore del giornale Radio Rai e dal 2002 al 2009 e poi dal 2010 al 2011 di Rai 3, rete nella quale proprio sotto la sua direzione sono nati molti programmi di successo e io direi anche di qualità. Nel 2011 poi è passato a dirigere la Sette fino al 2014 quando è diventato direttore di TV 2000. Nel 2018 poi è stato nominato prefetto del di Castero Vaticano per la comunicazione, che è l'organismo voluto da Papa Francesco, nato nel 2015, e che raduna in sé tutta la comunicazione vaticana, dall'osservatore alla radio, alla Vatican News, alla tipografia anche, credo, vero? E ecco, è un uomo che in un certo senso ha fatto la storia, perché è il primo laico che ricopre l'incarico di prefetto di un di Castero Vaticano. Grazie, grazie. Allora, e poi Maria Pia Velladiano, Maria Pia Velladiano è scrittrice, è laureata in filosofia e teologia e ha felicemente, come lei ama sempre sottolineare, insegnato lettere per più di vent'anni ed è stata anche preside. Collabora con Repubblica, con la rivista Il Regno e con Il Messaggero di Sant'Antonio. La vita a canto, pubblicato con Inaudi, è stato il suo primo romanzo, con il quale ha vinto il premio Calvino nel 2010 ed è arrivato al secondo posto, diciamo così, del premio Strega del 2011. Un libro, permettetemi una nota personale, che io ho amato e amo moltissimo. Un bellissimo libro che consiglio a chiunque di leggere, un libro sulla fragilità, insomma, che di questi tempi fa bene leggere. È autrice di molti altri volumi, cito qui solo, ne cito qualcuno, Il tempo è un dio breve, ma come tu resisti vita, lei e poi l'ultimo, in un certo senso, che è adesso che sei qui, che è uscito nel gennaio del 2021. Nel settembre del 2021, poi ho pubblicato per Solferino, Oggi c'è scuola. Vi do l'anticipazione, non so se posso Maria Pia, è addirittura d'arrivo, con grande gioia dei suoi estimatori, il suo prossimo libro, di cui ovviamente non posso dirvi di più. Benissimo, mi rubo... Cerco di parlare velocemente, proprio per non portare via tempo prezioso. Due parole così di introduzione, per dare qualche linea di riferimento. L'incontro di oggi è stato organizzato anche in collaborazione con la LEV, che è la libreria editrice vaticana, e lo spunto, diciamo così, viene dalla pubblicazione di questo libro, che è proprio arrivato in libreria da poche settimane, La parola e i racconti. 16 scrittrici leggono le parole, le parabole, scusatemi, dei Vangeli. È un libro curato da Rita Annarmeni, Rita Pinci e Carola Susani, e che è frutto di un'intuizione della redazione del supplemento femminile dell'osservatore romano, Donne Chiesa Mondo, di cui abbiamo qui in prima fila anche il direttore Andrea Monda. Ecco, è un libro nel quale 16 scrittrici, diversissime, diversissime per età, per formazione, anche per credo religioso, hanno raccontato, hanno costruito dei racconti ispirandosi liberamente a delle parabole. Le donne sono quasi tutte anche protagoniste di questi racconti, tranne mi pare in un paio di casi, e sono, devo dire, donne splendide, ecco, figure splendide, quelle narrate, quelle raccontate. Mi viene in mente qui, non voglio far torto a nessuno, ma, così cito quello che a me ha colpito particolarmente, che è il racconto di Te Aranno, che è ispirato alla parabola dei lavoratori della vigna, no? Perché? Perché c'è una, un, come dire, un circuito virtuoso di donne che si aiutano e si comprendono l'una con l'altra. Una donna è colei che si ribella a una vita di apparenza. Una donna che è, la donna che l'aiuta nei lavori domestici, è quella che si accorge della sua difficoltà, no? Che a un certo punto le chiede, ma cos'è che ti frigge l'anima? Un'espressione bellissima. E una donna è anche colei che porge una mano a questa prima protagonista, riconducendola a una vita degna, dopo che era diventata una senza fissa dimora. Ecco, quindi, poi, ne potrei citare veramente molti altri. Però, questo perché ho voluto citare questo? Perché il titolo di questo incontro è Fiducia Sostantiva Femminile. E quindi, come direi, il messaggio implicito che contiene è che la fiducia è in molta parte questione di donne. Cito qui Salvatore Anatoli, per chi mi ha ascoltato stamattina, l'ho già citato anche stamattina brevemente, perché ha scritto un libro per il mulino, Il rischio di fidarsi, nel quale, vabbè, legge un po' la dinamica di questo clima di sfiducia che c'è oggi, ma questo ci interessa relativamente, insomma, ne dà una lettura, ne dà delle motivazioni. Ma mi interessa sottolineare quello che lui dice in questo libro relativamente alla fiducia come dimensione proprio originaria della vita umana. Lui dice che non è un sentimento, è uno status originario. Noi non daremo mai fiducia a qualcuno se non avessimo per primi sperimentato non tanto la fiducia quanto la sicurezza. E lui riconosce, individua, diciamo, questo momento nel quale noi viviamo la fiducia come status originario nel rapporto madre-figlio. Lui addirittura tratteggia, dice che l'icona di questa sicurezza originaria di cui ci rimane memoria impressa nella mente è la Madonna del latte. Una Madonna, che è Maria, che allatta il bambino e che è presente moltissimo nella nostra arte. E quindi è un'immagine molto molto bella. E lui dice che noi alla fin fine possiamo agire proprio la fiducia come atto intenzionale solo perché l'abbiamo ricevuta all'origine. E noi l'abbiamo ricevuta attraverso comunque una figura femminile. Stamattina Johnny Dotti diceva ricollegava ulteriormente la fiducia al femminile dicendo che la fiducia è sempre frutto di un trauma alla fin fine e il trauma originario attraverso il quale tutti noi siamo passati è il parto. E anche questa è roba da donne permettetemi questa espressione un po' cruda però è così. Quindi io adesso mi fermerei e lascerei la parola chiedo scusa se ho rubato qualche minuto in più rispetto al previsto. Vi do un po' un quadro di come si svolgerà questa oretta oretta è dieci al massimo che ci attende. Noi faremo due giri io farò prima una domanda unica a tutti i relatori che risponderanno in rigoroso ordine alfabetico come prima così non si fa torto nessuno e poi una domanda invece specifica a ciascuno di loro e poi vedremo che ora abbiamo fatto e vediamo se ci sarà spazio per lo meno per una domanda ecco ci piacerebbe molto lasciare spazio alla platea anche perché in genere il Festival Francescano ha una platea che è molto partecipativa ed è bello perché si instaura un dialogo molto vero molto sincero a questo punto io passerei quindi alla prima domanda che è una domanda comune a tutti e tre i nostri relatori e i nostri ospiti dunque abbiamo ripetuto più volte insomma l'ho detto più volte il tema di questo incontro è fiducia sostantivo femminile siete d'accordo? cioè corrisponde al vero secondo voi il fatto che la fiducia sia un'attitudine che viene declinata maggiormente al femminile? a me personalmente viene da dire proprio di sì nel senso che non tanto perché è una cosa che si usa dire e che però sulla quale qualcuno avrebbe magari qualcosa da ridire non tanto perché le donne sono più portate alla cura sono più portate all'accoglienza ma perché le donne da sempre si preoccupano e si occupano di più di relazione e la relazione è come dire l'elemento in cui la fiducia diventa basilare anche qui permettetemi di citare un altro racconto che è quello che ha scritto Maria Pia Veladiano nel libro che lei si è ispirata invece alla parabola del seme di grano e tratteggia quattro figure femminile splendide mentre devo dire Maria Pia che l'unico uomo non ci fa una grande figura nel tuo racconto anche se va detto che è molto amato cioè le donne anche sono espressioni di amore e non viene mai stigmatizzato cioè viene compreso in questa sua diversità in questa sua un po' immaturità affettiva oltre che esistenziale quindi ecco a me viene da dire che effettivamente è così però mi interessa sapere il vostro parere che è molto più autorevole del mio quindi io chiederei intanto a Milena Gabanelli buongiorno allora io vorrei parlare intanto non sono una sociologa un'antropologa quindi non ho indagato non sono in grado di trasferire grandi considerazioni sulla fiducia se non in rapporto alla mia esperienza in tanti settori intanto io credo che sia un sostantivo neutro come lo è la stima come lo è l'affidabilità come lo è il lavoro il credito l'affidamento che sono sostantivi maschili detto questo senza scomodare le innumerevoli avvelenatrici di tutti i tempi che hanno incassato denaro vendendo arsenico passando per Irene di Bisanzio che ha fatto acceccare il figlio per non dividere con lui il potere dalla cianciulli alle donne di mafia io credo che ci siano donne degne di fiducia e uomini degni di fiducia donne non degne di fiducia uomini non degni di fiducia quindi detto questo non c'è dubbio che le donne hanno minore opportunità di dimostrare quanto sono degni di fiducia perché non rincorrono le opportunità di leadership per via del fatto a mio parere che sono loro stesse ad avere a non avere abbastanza fiducia in se stesse e la leadership è il metro con cui si misura la fiducia ora quelle che ci riescono perseguono un modello che è maschile che è quello insomma che vuole la società soprattutto la nostra e intendo quella italiana e qual è ed è quella che io ho visto e continuo a vedere quella delle conoscenze piuttosto che della conoscenza vale a dire tanto corridoio in anellare relazioni cene mondanità per arrivare a ora le donne che amano il loro lavoro e lo vogliono fare bene dedicano già tanto tempo al loro lavoro poi possibilmente fra lo scegliere il corridoio e tanto altro tempo dedicato ad altro perché in base alle relazioni costruisce la leadership preferiscono occuparsi dei loro figli dei loro mariti dei loro amici delle loro cose e questo è un fatto quindi chi riesce per carità non tagliamo giù queste parole con con l'accetta anche se suona così perché non voglio generalizzare no però generalmente chi riesce ad accedere a posizioni di grande visibilità e quindi ad accedere ai famosi luoghi di potere e di leadership ha percorso un po' quella strada quindi non ne ha fatta una diversa quindi è uno dei motivi per i quali poi è stata introdotta sono state introdotte le quote rosa perché insomma non si poteva più guardare il fatto che non fosse equamente distribuite le posizioni di vertice però attraverso quel meccanismo quindi non è un meccanismo che passa dal merito ma è un meccanismo distorto e molto opaco per chiudere nel momento in cui riusciremo ad avere una società realmente meritocratica e io penso che in questo le donne svolgono il loro lavoro spesso invisibile molto meglio e con maggior scrupolo di tanti uomini ma non si vede nel momento in cui l'unico parametro per accedere al livello superiore sarà il merito e non tutta questa altra cosa di cui ho parlato prima allora si potrà parlare di parità se non altro per via del fatto che le donne sono in un numero superiore agli uomini quindi a quel punto avremo una parità ma una parità di qualità e non una parità di numero che a mio parere è solo offensiva grazie grazie chiederei appunto di parlare di seguito così non porto proprio via tempo perché abbiamo veramente i tempi ristretti rispondo alla domanda e anche in qualche modo interagisco con le cose che ha detto Milena provando così a fare una conversazione e anche io e anche prima di venire qui domandavo anche in conversazione tra di noi se non fosse troppo schematica la la divisione sostantivo femminile quindi fiducia è una cosa che appartiene alle donne e mi sentivo un pochettino escluso e in realtà anche io penso che appunto ci sono ci sono uomini che meritano fiducia e donne che non lo meritano e viceversa che danno che non danno e però è vero credo che c'è una radice femminile perché penso da uomo di poter dire con una qualche approssimazione poi gli schematismi sono sempre come dire un po' ingannevoli che il pensiero femminile è un pensiero inclusivo è un pensiero fondato sulla relazione il pensiero maschile è forse più basato sul conflitto sull'affermazione del sé rispetto rispetto a un discorso di relazione diciamo comunitaria nella costruzione di una comunità detto questo poi tutto 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 dipende tutto veramente dipende allora se io vedo alla mia esperienza di di giornalista delle donne per esempio nei luoghi di lavoro che io ho frequentato quindi i giornali o i luoghi della comunicazione io per esempio vedo riguardo all'uso delle parole un'attenzione maggiore nelle donne rispetto a quella che usano gli uomini cioè noi noi viviamo in un mondo della comunicazione che usa le parole in maniera conflittuale secondo me retaggio del pensiero maschile le donne hanno una cura della della parola diversa da quella dell'uomo che è un uso della parola per costruire una relazione poi hanno una maggiore capacità le donne secondo me di costruire il un un clima di relazione sui posti di lavoro e su questo secondo me non so se sono se ho capito bene Milena o se sono o se sono o se ho equivocado sul tuo pensiero il tema secondo me non è quello perché la costruzione della del leadership secondo il paradigma maschile porta all'affermazione di sé cioè la fiducia in se stessi e non nel collettivo io penso che noi usciremo da questo schema maschile soltanto se acquisiremo la fiducia nel 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 gruppo piuttosto che nell'affermazione del singolo l'affermazione del singolo è un pensiero molto maschile quindi di leader se le donne secondo me pensano di risolvere il problema con 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 l'uguale e contrario secondo me siamo sempre siamo sempre dentro uno schema maschile mentre penso che la fiducia è la fiducia nell'uomo come genere umano la fiducia è la fiducia nella nella costruzione di qualcosa che è comunitario e non e non singolare quindi io direi direi questo soprattutto e poi volevo aggiungere una cosa riguardo la meritocrazia e anche che mi porta forse a dire qualcosa sui giorni nostri su un tema totalmente totalmente differente io non penso che la fiducia sia qualcosa che è solo legata al merito nel senso che uno la 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 fiducia è è nel dare fiducia a ognuno per quello che può dare e che così noi costruiamo un mondo più giusto senza scarti senza 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 separazioni il Papa direbbe senza scartare senza scartare nessuno se noi costruiamo solo una società competitiva meritocratica secondo me di nuovo non siamo dentro uno schema della fiducia il bello è dare fiducia a chi apparentemente ti pare non meritarla questo mi porta a dire una cosa so so che MNP ha studiato Bonhoeffer quindi lo cito col timore di essere di essere smentito perché è la situazione di uno che lo ha studiato ma se non sbaglio Bonhoeffer per esempio anche sulla guerra diceva che la sicurezza e la pace nasce dall'affidamento di qualcuno in cui per principio potresti non fidarti è quell'affidamento che cambia le cose se noi costruiamo tutto sulla fiducia soltanto in noi stessi cioè sulla diffidenza dell'altro che è il classico pensiero maschile non costruiamo né la pace né una comunità migliore né un luogo di lavoro migliore eccetera mi fermo spero di non aver citato a sproposito Bonhoeffer sì io approfitto intanto che passa il microfono a Maria Pia proprio per dire che questo sostantivo femminile che ha dato il titolo a questo incontro di oggi si riferisce proprio all'origine non tanto appunto a chi è degno di fiducia Maria Pia posso fare una prezzatura certo breve breve però mi raccomando nel dubbio che non vorrei essere stato equivocato cioè per merito si intende meritevole di fiducia meritevole di apprezzamento meritevole di fiducia in base appunto ognuno alle proprie caratteristiche ognuno al proprio dovere ognuno al proprio compito quindi la meritocrazia è il punto di partenza io ti riconosco e ti do fiducia in base a quello che sai fare e non in base a chi conosci a chi ti raccomanda di chi sei parente cioè bisogna prima di tutto passare questo dopodiché possiamo affrontare qualunque altra cosa ma se il primo passaggio è ostacolato da questa griglia stiamo parlando su parole al vento questo intendevo dire Maria Pia secondo te invece sì allora mi hanno detto di parlare ad alta voce perché si sente poco è troppo alta così va bene ok mi hanno fatto questa raccomandazione allora io parto in modo un po' diverso parto dalla storia di Giuditta della Bibbia qualcuno la conosce parlarne qui è anche un po' temerario perché molti la conosceranno meglio di me che non sono teologa però è una delle storie più belle di donne che io conosco nella Bibbia per tanti aspetti ma per l'aspetto della fiducia dico perché allora noi sappiamo la storia per chi non la ricorda Giuditta questa vedova la città di Betulia c'è Olofernen il generale di Nabucodonosor che sta la mette in assedio e sono alla fame ma soprattutto alla sete perché prende l'acqua prende la fonte tipico dell'assedio resistono 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 si affidano al Signore gli anziani della città finché non cominciano a morire i bambini la Bibbia dice così quando cominciano a morire i bambini decidono questo pregano ancora il Signore perché ci credono tanto insomma sono naturalmente legati alla loro storia però dicono se il Signore in cinque giorni entro cinque giorni non ci salva ci arrendiamo se il Signore noi ci arrendiamo e questa vedova che non può andare in assemblea perché è una donna che non può parlare in assemblea perché è una donna convoca gli anziani che vanno da lei solo perché è autorevole e fa un discorso straordinario fa un discorso straordinario dice ma voi siete pazzi avete tentato Dio cioè avete detto se allora e lei dice tutta una serie di cose dice il Signore ci può salvare in cinque giorni certo che può può salvarci oltre i cinque giorni può anche non salvarci può non salvarci può abbandonarci può non salvarci poi c'è tutto il resto che noi conosciamo lei parte c'è tutta la storia che è quella che poi agli artisti piace di più perché c'è questo aspetto un po' truce che finalmente si uccide l'uomo maschilista con una bella testa in mano ma cosa vuol dire che può anche non salvarci lei lo dice di Fro vuol dire che della vita fa parte il male cioè fa parte la incomprensibilità il tradimento anche di Dio che io posso lei prima dice anche altre cose voi non capite il vostro cuore pretendete di capire il cuore di Dio dice un mare di cose teologiche straordinarie e lei vuole dire attenti della vita fa parte anche il tradimento di per noi quello che è il tradimento cioè Dio ci sta tradendo la nostra fiducia perché poi lei lo dice noi ci crediamo noi siamo bravi noi siamo tutti siamo il suo popolo ed è questo un po' il punto quando lei fa questa operazione supera non solo la tentazione di tirare Dio belli stracci non solo quella del ricatto se tu sei Dio allora mi salvi eccetera la fiducia ha una dimensione di come dire di pericolo di possibilità che si cada che si venga lasciati cadere che si venga ma non perché Dio è cattivo la vita è cattiva eccetera ma semplicemente perché la vita è così cioè è anche questo ed è lì che funziona il meccanismo della fiducia che se funziona la vita può continuare in lei funziona farà delle cose terribili e la vita continuerà ma se non funziona si torna a essere schiavi quelli che preferiscono le cipolle in Egitto però almeno mangiavano e non stavano morendo di fame allora questa storia di Giuditta che è secondo me straordinaria vuol dire che la fiducia comprende anche la possibilità di non essere di non essere che venga tradita ma alla radice all'origine detto questo senza fiducia noi non potremmo neanche vivere tutti voi vi fidate che questa volta non stia cadendo sulla testa ma è banale però è così naturalmente talvolta le volte cadono l'abbiamo visto a Roma insomma pochissimi giorni fa questi poveri ragazzi che sono anche caduti però noi ci fidiamo e lo stiamo facendo in generale funziona non funziona sempre ma il diciamo che non funziona sicuramente nulla nella vita nulla se non diciamo vediamo l'altro in una prospettiva che è quella del credito di fiducia ogni bambino nasce diceva un medico che è inutile che andiate a cercare sui sui l'enciclopedia perché non non c'era un grandissimo uomo che ha fatto una bellissima lunga vita si chiamava Charbunion diceva ogni bambino ha diritto di nascere con un credito di fiducia ogni bambino ha questo diritto che è la grandissima lezione moderna perché uno dice stai parlando di robe estratte quindi voglio dire fare i discorsi sono buoni tutti la grandissima lezione moderna di Yunus che ha fondato la Graham & Bank e che ha detto ogni che è la banca del microcredito la banca dei poveri no che ha funzionato al di là di ogni possibile allora di ogni possibile immaginazione no lui ha scoperto che dando fiducia in questo caso ai poveri agli imbancabili quelli che non si potevano a cui le banche non davano niente perché erano troppo poveri questi moltiplicavano moltiplicavano le loro energie di vita e riuscivano a restituire con un indice di insolvenza bassissimo molto più basso di qualsiasi altra banca che invece presta solo ai miliardari ai ricchi e così via e lui ha osservato è scientifica questa cosa andate a vedere sui libri chi non li conosce sono meravigliosi dice io all'inizio ho dato agli uomini e anche alle donne cioè facevo il microcredito però funzionava solo con le donne gli uomini andavano a bere dissipavano e non restituivano e allora ho dato solo alle donne chiudo dicendo perché perché funziona con le donne è un sostantivo femminile sì secondo me sì ma non nel senso che perché gli uomini non possono ma perché c'è qualcosa che le donne possono insegnare agli uomini in questa e nella loro diciamo capacità di convivere può avvenire questo miracolo di aumentare la fiducia del mondo e perché insomma sarebbe diciamo è un po' lungo ma forse in un attimo potrei dire così una donna anche se non ha bambini anche se non genera sa che quando si genera si affida automaticamente non è che quando una donna aspetta un bambino mettendosi in un angolino e covando bene cova meglio e il bambino le viene meglio si affida a quello che sta capitando dentro di lei è un affidamento totale è un atto di fiducia in qualche modo che è previo e in questo e nasce come dire la sua vita si articola intorno a questa fiducia che è l'atto del generare questo sono conservatore Anattoli anche se non del tutto perché poi lui ha tutta un'altra ha tutta un'altra componente che viene dietro e quindi sì è un sostantivo femminile perché per tutto per tutti questi motivi ma non vuol dire che non possa diventare maschile che non possa diventare maschile nella misura in cui le donne qui sono con Milena Gabanelli naturalmente sono assolutamente d'accordo nella misura in cui le donne non possono far valere molto di più questo questo loro aspetto per quanto riguarda il me attraverso la responsabilità la corresponsabilità del vivere civile a questo proposito è chiaro che il merito va benissimo nella misura in cui si parte da una base che sia in qualche modo diciamo confrontabile la partenza delle donne è da una base talmente lontana rispetto diciamo alla possibilità di responsabilità di carriera di contare anche nella chiesa voglio dire che partendo da lì è difficile usare il merito e basta insomma come criterio le quote rosa hanno avuto anche questo significato di poter di dover in qualche modo giocare altre carte che non sono belle carte vuol dire che non ha funzionato qualcosa insomma grazie grazie Maria Pia io scusate devo essere cattiva con i tempi ma dopo di noi c'è un'altra c'è un altro incontro bene adesso farei invece una domanda a ciascuno di voi al contrario cioè in ordine alfabetico ma partendo da Maria Pia in questo caso voi qui rappresentate tre mondi mi dispiace come dire incasellarvi solamente in questo però per una questione di semplicità Maria Pia abbiamo detto che ha insegnato per oltre 20 anni ama molto la scuola quel libro che ho citato prima oggi c'è scuola lo dice in ogni riga in ogni pagina è un libro che è stato pubblicato a settembre del 2021 all'indomani praticamente del momento più critico della pandemia quando le scuole sono riaperte dopo le varie dad le varie chiusure che sono state dei momenti che hanno mostrato hanno messo la scuola sotto una lente di ingrandimento e ne hanno mostrato come dire i grandi limiti ma anche le grandi le grandi opportunità che sono nascoste e forse è proprio il momento come dire di mettere a frutto di rielaborare quello che è stato l'insegnamento della pandemia e cercare di far sì che questi che queste opportunità trovino un compimento ecco quindi Maria Pia io volevo chiederti la scuola comunque è vituperata si vede i tagli finisce sempre che vanno lì quando bisogna tagliare su sanità su scuola noi italiani critichiamo le nostre scuole che sono in realtà tra le migliori al mondo come che cosa dobbiamo ripartire secondo te per restituire per dare fiducia alla scuola perché si riappropri della propria credibilità intanto direi che diciamo noi persone donne uomini di scuola stiamo benino nel senso che tutte le ultime indagini che sia il census che sia il rapporto talis insomma voi potete cercare la per tutto dice che la fiducia intorno alla scuola sta intorno al 52 53% per dare un'idea siamo sotto il papa quindi siamo piuttosto contentini insomma e i politici la politica sta all'8 al 7 al 6% quindi si preoccupino gli altri insomma noi stiamo abbastanza benino e diciamo che però la stampa non ci ama molto e la politica ancora meno forse perché è invidiosa nel senso che ogni politico che arriva a governare pensa bene di utilizzarla in chiave demagogica e questo non fa bene a nessuno perché la scuola vive di tre articoli della Costituzione il 3 e il 33 e il 34 cioè vive della sua missione il 3 cioè diciamo ridurre i fattori che impediscono l'uguaglianza il passaggio cioè dall'uguaglianza formale articolo 1 all'uguaglianza sostanziale e il fattore principale direbbe Don Milani è la cultura quindi lei vive di questa missione di ridurre il fattore di disuguaglianza che è la diversità culturale poi 33 e 34 la libertà di insegnamento eccetera eccetera quindi la scuola vive di questo e diciamo che tutta questa libertà non piace molto a una politica che vive prevalentemente di demagogia parlo degli ultimi 20 anni insomma così non faccia torto a nessuno da questo punto di vista la seconda cosa è premesso che stiamo meglio di altri quindi stiamo piuttosto bene la scuola diciamo basta che faccia il suo mestiere di tenere insieme le persone sapete cioè non è che deve fare miracoli deve restare scuola pubblica che raccoglie tutti che accoglie e raccoglie tutti perché è l'unica realtà che raccoglie tutti e nella reciproca conoscenza nella reciproca conoscenza c'è la possibilità di coltivare la fiducia non ce n'è un altro io stamattina mi ho riso con voi forse qualcuno c'era anche quando Gianni Dotti ha raccontato questo diciamo simpatico aneddoto alla fine del suo incontro quando ha detto c'era questo qui che non sopportava i neri non sopportava gli africani eccetera eccetera però ecco io posso anche dire perché poi invece alla fine dice ma se mi toccano questi qui che sono cresciuti con me negli ultimi tre anni faccio fuori tutti perché? perché li ha conosciuti e dov'è che ci si perché li ha conosciuti non diventa lo straniero ma diventa uno che ha un nome infatti involontariamente Gianni Dotti l'ha detto l'ha fatto senza sottolineare l'ha detto prima è arrivato lì che dice odio gli stranieri odio gli africani odio gli immigrati quando poi ha conosciuto dice alla fine io se mi toccano Fatima perché li ha chiamati per nome ed è l'unico posto in cui noi possiamo chiamare per nome la nostra comune umanità è esattamente la scuola non ce n'è un altro in questo momento in Italia è la scuola pubblica è la scuola pubblica quindi va difesa come bene comune non c'è altro basta che ci lasci non lavorare non c'è nient'altro da fare grazie grazie Maria Pia Paolo Ruffini ecco lei è qui come diciamo esponente della Chiesa in questa categorizzazione che mi sono permessa di fare così con l'accetta non possiamo dire che la Chiesa stia vivendo un deficit di fiducia nel senso che rimane comunque una delle istituzioni nei confronti delle quali la fiducia continua a essere più alta in particolare il Papa c'è l'indagine Demos del 2018 dalla quale proprio prendiamo che il 70% degli intervistati dichiara di avere molta fiducia nel Papa a fronte di un 38 ahimè che dice che ha fiducia nella Chiesa quindi diciamo che la fiducia la credibilità della Chiesa presenta un volto sfaccettato ecco non è definibile come un deficit di fiducia ma non è neanche come dire pienamente credibile da questi dati perché questo famoso 38% era il frutto di una perdita netta di 20 punti rispetto a 10 anni prima quindi nel nel 2008 quel 38% in realtà era un 58% ecco come possiamo leggere questo atteggiamento così diversificato che vede da un lato le chiese che si stanno svuotando anche dopo la pandemia e dall'altro lato però questa dichiarazione di fiducia che la gente comunque che noi italiani continuiamo a esprimere nella Chiesa nei confronti della Chiesa dunque parto da un sì i numeri sono quelli però cerchiamo di capire secondo me che cosa ci dicono i numeri e anche in che modo interpretare almeno questo e poi provando ad avere uno sguardo anche al di là dell'Italia e come diceva anche ieri poco fa Maria Pia e adesso il Papa continua ad avere una grande fiducia in quanto persona ma in quanto interprete di una cosa che ha una sua radice evangelica allora il tema è che cosa è la Chiesa e quei numeri secondo me indicano una una richiesta e una sofferenza della gente in Italia ma non soltanto in Italia per una cosa che noi come uomini e come Chiesa non siamo in grado di esprimere che il Papa dice bene perché è bravo perché è un leader perché ha la grazia e che la Chiesa come istituzione nei secoli e poi nei decenni e poi negli anni forse è un poco smarrito se noi pensiamo la Chiesa come istituzione la Chiesa come istituzione come anche la maggior parte delle istituzioni ha un problema di fiducia ma la Chiesa per chi ci crede ma anche forse per chi non ci crede non è primariamente un'istituzione è primariamente una comunità di persone unite da una fede che mettono in comune e offrono all'altro non per colonizzarlo non per nemmeno per catechizzarlo ma semplicemente per testimoniare un modo diverso di vivere questa cosa qua la Chiesa l'ha un po' persa e per questo la gente va di meno nelle chiese per questo ci sono meno vocazioni perché le vocazioni sono espresse da una comunità se una comunità non c'è non ci saranno nemmeno le vocazioni come da cosa si può ripartire secondo me c'è un clamoroso equivoco che riguarda il mio mestiere anche per la parte di non essere un un credente più che un uomo di chiesa io sono un battezzato che gli è capitato di essere di avere questa questo ruolo da parte del Papa che cosa è che noi possiamo saltare la dimensione comunitaria attraverso la comunicazione da punto a massa o una 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 salvifica della nuova delle tecnologie per cui noi risolveremo i problemi della chiesa con i social media risolveremo i problemi della chiesa con il metaverso risolveremo non è così almeno secondo me non è così racconto e poi mi taccio così appunto abbiamo lasciamo anche spazio per le per le domande quando c'è stato il lockdown si è avuta precisa la dimostrazione del bisogno e della e della possibilità di ricostruire una comunione che non è data soltanto dal numero le statistiche non dicono niente ma è data da un bisogno che c'è di una lettura trascendente comunque da una lettura sapienziale di quello che ci accade il Papa inizia inizia cioè autorizza noi come sistema dei media vaticani a trasmettere in diretta le sue messe da Santa Marta di solito sono delle messe private perché insomma per comunità piccola perché è giusto che ognuno vada nella propria comunità e succede una cosa pazzesca strabiliante cioè TV2000 che inizia a trasmetterla per prima passa dall'1% al 10% di ascolto alle 7 e mezzo del mattino se ne accorge il direttore di Rai1 che è un ex collega mio di Milena quando sta a Mare 3 mi chiama e mi fa ma io posso trasmettere la messa di Santa Marta dico certo la stiamo andando a tutto il mondo in quel momento la trasmetteva a tutto il mondo dalla Cina al Sud America eccetera e quindi la prende naturalmente mi chiama il direttore di TV2000 e dice ma mi hai fatto questo sgarbo dico no la do a tutti il TV2000 scende dal 10 all'8 Rai1 passa dal 16 al 34% di share a cui puoi sommare varie televisioni locali cattoliche e anche non cattoliche quindi dalle 7 e mezza alle 8 e un quarto all'incirca il 60-70% di persone che sicuramente non andavano a messa tutti i giorni non solo e che sicuramente non erano tutti tutti i cattolici partecipa a questo momento momento di preghiera quindi esprime un bisogno che poi noi come Chiesa forse non siamo non siamo in grado il Papa poi però quando finisce il lockdown dice adesso basta perché le persone devono ritrovare la loro la loro comunità non è non è così che altrimenti noi ricostruiremo una vera comunità e non è con operazioni di marketing di cose che ogni tanto non ci mentiamo ma è ricostruendo la verità di una relazione quindi la Chiesa vive e cresce se sa costruire una relazione così si è diffusa nei secoli e così continua a diffusare poi ci sono episodi di cose che sono successe in Italia e non solo in Italia perché siamo uomini perché comunque il male c'è non è inutile poi pensare di vivere in un mondo angelicato per cui uno perde la fiducia in una persona e poi attraverso una persona magari perde la fiducia nella Chiesa come comunità ma da lì si deve ripartire dalla comunità che attraverso questo ritorno al tema femminile perché il Papa quando parla del ruolo delle donne nella Chiesa che ci sarebbe bisogno di molte più donne imposti non di potere che la Chiesa non è un potere ma un servizio come diceva Milena diciamo comunque c'è bisogno delle donne il Papa ricorda il ruolo di Maria e dice la donna ha questa capacità di costruire comunione più dell'uomo che ha magari un pensiero più gerarchico e più competitivo basta grazie 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 ecco forse più donne più donne i ruoli di responsabilità potremmo dire ecco per non usare la parola potere Milena Gabanelli delle donne prete ahia questo ci siamo dimenticati di dirle che era un argomento di cui non dovremmo parlare scherzo ovviamente scherzo Milena Gabanelli tu sei rappresentante qui scusami ma del mondo giornalistico ecco la stampa i giornalisti oggi fanno i conti con un deficit di fiducia che mi viene da dire non è mai stato così alto dai tempi della diffusione dell'ampia diffusione della stampa ne sono state date mille motivazioni mille interpretazioni il fenomeno della disintermediazione per cui ciascuno può fare tutto compreso trovare le notizie capire cosa è vero cosa non è vero i social il web addirittura qualcuno ha chiamato in causa anche la free press le fake news comunque al di là delle motivazioni probabilmente sono una summa una sintesi di tutto questo dove sta la verità secondo te cioè perché la stampa le persone oggi non si fidano più dei giornali non si fidano più dei giornalisti e da dove ripartire non dico da dove quale può essere la soluzione perché è di difficile soluzione ma da dove ripartire per riacquistare questa credibilità che abbiamo perso allora la somma delle cose che hai elencato non è poca roba però hai detto c'è A, B, C, D, E a prescindere da questo se prescindiamo dal fatto che uno prescinde dal corpo c'è solo la testa mazza non si cammina poi alla fine comunque secondo me c'è da una parte un bombardamento di informazioni continue un flusso inarrestabile che arriva da ogni dove le fonti spesso non sai quali sono proprio per la quantità la rapidità con cui noi vogliamo comprendere cosa sta succedendo quindi ci basta un titolo il titolo spesso è forzato quindi tutto questo non può che creare una grande confusione perché ti sfugge la comprensione dei fatti e di conseguenza se ti sfugge la comprensione dei fatti la colpa è del giornalista cioè sono un po' vere tante cose per quel che riguarda allora andiamo dalla parte dei lettori tanto per cominciare fino a una decina d'anni fa chi voleva essere informato andava all'edicola spendeva il suo euro e comprava il giornale dopodiché grazie ai social Dio li benedica sono di enorme grandissima utilità tuttavia pezzi di informazione ripresi da ogni dove postati sono disponibili gratuitamente ci sono tantissimi innumerevoli siti web quindi l'informazione è accessibile senza pagare ma che informazione è? non lo so perché tanti siti non è che rispondono di quel che pubblicano perché spesso non lo so sono registrati a scopie piuttosto che in Georgia firmati da chissà chi fanno un'attività di propaganda di disinformazione costante continua però pezzi vengono presi ripostati su altri siti su altri luoghi quindi tu perdi l'origine delle fonti hai un bel andare a ricostruire tu testata nazionale autorevole eccetera nel momento in cui per accedere a te devi pagare perché le persone tante persone preferiscono non pagare io vedo quelli che mi scrivono e mi dicono io vorrei leggere ma dopo tre accessi il corriere mi mette il muro cioè ovvero chiede l'abbonamento 9,9 euro al mese che è più o meno quello che chiedono un po' tutte le testate cioè non si è più disponibili a pagare ma dall'altra parte ci sono dei giornalisti che devono essere stipendiati un editore che deve pagare le spese e quindi come fa a tenere in piedi tutta questa baracca? La tiene in piedi con la pubblicità la pubblicità come la raccogli con i click i click presuppongono dei titoli sparati e che attirino perché l'importante è cliccare poi cosa importa se quello che vai a leggere non necessariamente corrisponde a quello che il titolo ti promette tanto pettegolezzo tanto gossip tanta confusione l'importante è fare flusso fare click per portare a casa la pubblicità per pagare i giornalisti per pagare la testata la quale a sua volta è contorniata ovviamente avendo meno risorse utilizza una grande quantità di collaboratori che sono pagati quando va bene 15 euro per 30 righe allora se tu devi fare scrivere in un'ora 30 righe su un incidente sei a Milano ed è successo a Monza non è che prendi sul treno prendi la macchina vai a Monza a vedere fai due telefonate e possibilmente cerchi di arrivare in fretta senza sbilanciarti riportando cose che hanno detto altri il più delle volte appunto sono dei comunicati trasformati in articolo non solo il più delle volte sono degli articoli sponsorizzati e mascherati da articoli e quindi non sempre il lettore è in grado di capire che quello è un'intervista fatta non lo so a una a una energetica che lancia il suo piano di rinnovabili farlocco per far decollare il titolo però capisce com'è e tutto questo per riuscire a stare in piedi certo in mezzo ci si mettono anche cose importanti però è una giostra che si fa male da sola quindi da una parte io non pago e quindi se non pago dall'altra parte devo spendere il meno possibile non solo anche molto flusso e quindi un tanto al chilo e sono sotto la tagliola sotto lo schiaffo della pubblicità quindi è inutile aspettarsi grandi approfondimenti verso i grandi inserzionisti che sono quelli che tengono in piedi l'informazione ovvero l'energetica l'industria alimentare la moda cioè ce n'è quindi non gli vai a disturbare perché poi loro ti tolgono la pubblicità noi potremmo raccontare eri tu con mineracqua possiamo raccontare però lì era la tv pubblica di conseguenza per avere una stampa che risponde solo al lettore perché il giornalista poi anche questa è la sua passione l'ha ordinato il medico di fare questo mestiere non devi essere sotto schiaffo e quindi qualcuno deve pagare vale a dire appunto gli abbonamenti eccetera ora l'esempio del New York Times del Guardian tanto per portare due non accedi più se tu non fai l'abbonamento come è giusto che sia cioè è un prodotto come un altro nemmeno il servizio pubblico è gratuito perché paghi il canone quindi il detto se non paghi per il prodotto il prodotto sei tu è una una grande verità dopodiché bisogna prendere atto del fatto che esistono i social tutte le testate tutti i miei colleghi pubblicano hanno i loro profili social dove c'è un mondo queste piazze virtuali commentano smentiscono insultano non interviene bene io che ho una propensione al masochismo nel momento in cui ho aperto questi profili ogni giorno ci dedico del tempo per rispondere ai commenti in quattro anni di data room si è partiti con vai a dar la via per strada e io ho risposto perché è per strada e la risposta dell'utente è stata mi scusi tanto io non pensavo che lei leggesse cioè questa è la cosa no quindi cioè nel momento questo volevo dire nel momento in cui tu dialoghi con questi che ti dicono perché l'arrivo lo sbarco sul corriere è stato questo venduta ai poteri forti per una parte e dall'altra parte è sbarcata la comunista direi tre cioè quindi io avevo una difficoltà anche a riconoscermi in me stessa per capire quale zona collocarmi tuttavia ho fatto questo in questi quattro anni mi sembra che gli interventi siano più costruttivi e si sia riportato un po' di dialogo con quelli che invece insultano smentiscono quello che dici pubblicando un link che non si sa dove sia stato preso però è una gran fatica non credo che siano in tanti a farla perché poi bisogna anche avere una distorsione cioè una patologia capisce però bisogna partire da lì è inutile ignorare questa piazza virtuale che va per conto suo diversamente volevo raccontare un aneddoto di Mineracqua allora Mineracqua e Acque Minerali facciamo una inchiesta sul come leggere le etichette delle Acque Minerali in quel momento Mineracqua stava rinnovando il pacchetto di inserzioni credo sponsorizzasse anche Sanremo stiamo parlando dei primi anni 2000 telefonata è meglio che quella roba lì insomma quel passaggio non passi perché stiamo rinnovando questo accordo e forse non lo si rinnova io so che ci fu una discussione su questo e decidemmo beh se non rinnovano la pubblicità lo diciamo e glielo diciamo anche che lo diremo la risposta è stata va bene così quindi a volte anche il passare dall'altra invece di temere l'inserzionista dire bene se tu mi impedisci di parlare di te io lo dirò però insomma il servizio pubblico poteva permettersi questo rischio il privato il privato molto meno bene grazie anche perché siete stati nei tempi siete stati bravissimi io direi adesso che una domanda possiamo concedere dal pubblico so che siamo un po' stretti però non vorrei come dire negare questa possibilità di questa piazza reale una volta tanto non virtuale se c'è qualcuno che ha una domanda da fare ai nostri relatori una sola e anche sintetica possibilmente so che chiedo l'impossibile ma ecco salve mi chiamo Del Vecchio Marina sono un'insegnante di scuola primaria quindi ho ascoltato con piacere gli interventi devo dire che inizialmente mi sono sentita un po' mortificata e un po' dispiaciuta dell'associare la parola fiducia a un genere come la donna proprio perché la parola veicola il pensiero la parola costruisce il pensiero la parola è fonte anche di educazione educazione culturale di quello che noi siamo come come popolo come stato quindi io mi chiedevo come mai non si è pensato di associare la parola fiducia alla parola persona che riguarda tutti e quindi non va ad alimentare magari delle differenze di pensiero già nel momento in cui ci si pone la domanda io non penso che eh sì io credo che in realtà abbiano già parzialmente risposto sia Maria Pia che Milena e che Paolo Paolo Ruffini era il voler in qualche modo andare all'origine della fiducia no? cioè andare a riscoprire quello che è questa memoria che c'è stata io ho cercato di dirlo all'inizio forse l'ho detto troppo in fretta e qualcosa non è passato oltre al fatto che proprio per questo rapporto stretto che la donna ha quello che diceva Maria Pia con con l'origine della vita col dare la vita in questo atto di affedamento totale che fa è stato pensato di declinare al femminile ma assolutamente condivisibile quello che è stato il punto di vista espresso bene da Milena Gabanelli che è il fatto che poi non si può generalizzare molte volte i titoli degli incontri procedono per slogan ecco ma attorno a questo slogan poi si dialoga e penso che sia emerso una serie di motivi oltre al fatto che ripeto è stato preso spunto da questo libro dove ci sono effettivamente sedici donne che raccontano quindi ecco è stato un pochino questo il motivo penso che nessuno né degli organizzatori né dei promotori avesse mai pensato che gli uomini non siano degni di fiducia però noi lo siamo un po' di più no scherzo però ecco vorrei dire che era una battuta da questo punto di vista il Vangelo è più bravo nel senso che le parabole che abbiamo commentato diciamo hanno protagonisti maschili e femminili indifferentemente c'è la donna che insegue la dramma perduta poi c'è il figlio del prodigo cioè è più bravo il Vangelo che mette figure maschili e femminili se vogliamo ma è appunto è lì è lì il punto il fatto che è un punto a cui arrivare insomma il fatto di una fiducia condivisa e allargata dov'è che in questo momento viene maggiormente è maggiormente esercitata e divisa è vista insomma e rimane indivisa sicuramente in questo momento storico io credo che sia proprio più nel femminile ma che serve questa condivisione e contaminazione bella ecco che però in questo momento è lì insomma poi di fatto leggendo le storie anche moderne è interessante che benché nessuno ce l'avesse detto proprio nessuno ce l'avesse detto sono rifatto storie di donne quasi tutte di scuola una solo la mia veramente ma di donne in generale ecco ecco io mi dispiace ma non c'è tempo per altre domande perché poi alle 17 c'è un ulteriore incontro io però vi chiedo di avere ancora qualche minuto di pazienza perché ho delle comunicazioni tecniche da farvi allora la prima è che il libro la parola ai racconti è in vendita in fondo c'è un banchetto dove potete acquistarlo se lo desiderate e Maria Pia Veladiano poi starà per un pochino qui esatto a nome di tutte perché non ci sono chiaramente le 16 autrici potrà firmare il libro per chi lo desiderasse poi la l'altra comunicazione tecnica scusate che me la sono persa eccola qui è che sulla sedia quando siete arrivati avete trovato un segnalibro omaggio con un QR code che se inquadrate con il cellulare rimanderà a un questionario di gradimento vi chiediamo di compilarlo di compilarlo perché questo aiuta gli organizzatori a a realizzare un festival sempre più rispondente a quelle che sono le attese insomma delle persone che partecipano tra coloro che parteciperanno al questionario verranno anche estratti 10 nomi a cui verrà donato il calendario 2023 e una shopper del festival un grazie ancora agli sponsor che hanno reso e che rendono possibile tutto questo e anche agli amici del festival gli amici del festival sono persone che decidono di sostenere con una donazione anche piccola il festival chi lo desidera può andare all'info point e richiedere la la tessera di amico del festival ecco sono 500 dall'inizio del festival è una cosa molto importante per cui ecco pensateci e eventualmente potete andare all'info point io chiuderei lascerei una la parola a Papa Francesco nel senso che alla fine di questo di questo incontro quello che io così trago come come insegnamento mio personale e che alla fine la fiducia forse stia proprio anche nel riappropriarsi di una oltre che di una relazione autentica ma anche di una narrazione che è esattamente una narrazione positiva che è esattamente quello che ha cercato di fare la libreria editrice vaticana e prima ancora donne chiese a mondo facendo raccontare riprendendo riprendendo in mano il racconto e una una narrazione appunto positiva di cose belle e in questo senso mettendo come dire in atto quello che ci aveva suggerito Papa Francesco nel messaggio della comunicazione sociale del 2020 che era proprio aveva come tema quello della narrazione e quindi mi piace chiudere con queste parole perché io le trovo molto molto belle credo scriveva Papa che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone storie che edifichino non che distruggano storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo che riveli l'intreccio dei fili con i quali siamo collegati gli uni agli altri perché l'essere umano è un essere narrante fin da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo che siano in forma di fiabe di romanzi di film di canzoni di notizia le storie influenzano la nostra vita anche se non ne siamo consapevoli spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato le storie ci formano i racconti ci segnano plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti possono aiutarci a capire e a dire chi siamo buonasera a tutti e grazie 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 a tutti